Si svolgerà a settembre il dibattito sull'adeguamento della legge sull'edilizia residenziale pubblica. Decisivi i numerosi emendamenti della Lega che hanno bloccato l'ITER. Critiche anche da Forza Italia. La Corte Costituzionale non si è espressa sulla legge toscana. Via Libera ha la legge sulle rievocazioni storiche, che godrà di uno stanziamento di 1,5 milioni di euro fino al 2023. Nel documento si fa leva su una maggiore interazione tra la regione e le associazioni presenti sul territorio. Petrucci di Fratelli d'Italia. Speriamo che Anci non voglia fare una congrega di partito. Degli alloggi popolari se ne parlerà a settembre. Il Consiglio regionale ha deciso di rinviare la discussione alla ripresa dei lavori, dopo che è stato richiesto il parere di ammissibilità sugli emendamenti presentati dalla Lega. Si trattava di discutere l'adeguamento della legge toscana, in seguito a una sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità di una norma analoga contenuta in una legge regionale della regione Lombardia, nella quale si fissa il requisito della residenza o delle attività lavorativa da più di cinque anni sul territorio regionale, come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. La norma è stata giudicata in contrasto con i principi di uguaglianza. Il requisito di accesso ai bandi viene quindi eliminato anche nella proposta di legge toscana e si introduce una più articolata premialità nella formulazione della graduatoria per la residenza, già a partire dai tre anni di residenza o attività lavorativa, secondo quanto proposto da un emendamento presentato da Fratelli d'Italia. Sarà riconosciuto un punto a chi vive o lavora in Toscana da almeno tre anni, due punti per i cinque anni, tre punti per i dieci anni, 3,5 punti per i quindici e quattro punti per i vent'anni di residenza o attività lavorativa nella nostra regione. A spiegare la situazione è stato Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del PD, che ha ribadito comunque la volontà di proseguire nel percorso. Parola in sintonia con quelle di Stefano Scaramelli d'Italia Viva e Irene Galletti. La consigliera del Movimento 5 Stelle ha comunque sottolinato come dietro al rinvio ci siano solo motivi ideologici. Un atteggiamento assolutamente incomprensibile perché questo istruzionismo che la Lega sta praticando per la modifica della legge 2, la legge toscana, che è una buona legge, che però va modificata sulla base della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale che ritiene alcune norme che prevedono la impossibilità di accesso alle gradatorie se non c'è una permanenza della residenza in Toscana, così come prevedeva la legge per più di cinque anni, come norme discriminatorie. Noi abbiamo inteso adeguarci a questa sentenza della Corte, sentenza tra l'altro emessa sulla base di norme vessatorie che alcune regioni amministrate dalla Lega hanno prodotto, sono la Lombardia e l'Abruzzo ad esempio, e anche sulla base della richiesta che tutti i sindaci, l'Anci ce l'ha chiesto, perché i sindaci hanno bisogno di pubblicare i bandi per rinnovare le gradatorie e aspettano questa modifica per non fare bandi che non siano soggetti ad impugnativa. E quindi ecco perché avevamo inteso approvarla in tempi rapidi. In più, i più danneggiati saranno i cittadini, le famiglie che hanno requisiti per poter fare la domanda, che sono al 90% tra l'altro cittadini italiani, che invece dovranno aspettare perché i bandi saranno fatti più tardi. Ma è sempre opportuno approfondire una legge che è così importante che riguarda l'edilizia popolare. La casa per molte persone è un sogno per la loro vita, avere un'abitazione di disponibilità pubblica è importante, è un diritto, ma noi dobbiamo anche tutelare ovviamente il nostro patrimonio, inserendo anche dei meccanismi di doveri da parte delle persone. Nella scorsa legislatura è stata fatta una legge, a mio avviso, ottima rispetto all'attribuzione degli alloggi popolari, concertata, discussa, arrivata in fondo. Si tratta di migliorarla, laddove ci sono dei rilievi della Corte Costituzionale e quindi credo che peraltro noi sosterremo il testo così come è, perché comunque comprende anche delle nostre richieste, quello di privilegiare i cittadini toscani che da più anni sono residenti nella nostra regione o che hanno lavorato in maniera continuativa o anche non continuativa per almeno cinque anni con un punteggio aggiuntivo nel meccanismo dell'assegnazione, consentendo comunque a tutti di fare domanda, mantenendo un principio solidaristico importante, cercando di assegnare la casa a chi più ha bisogno, ma nel frattempo consentire magari anche alla cosiddetta classe media di poter accedere e sono quelle persone che magari anche la crisi ha falcidiato rispetto alla difficoltà di conciliare magari un affitto con uno stipendio basso o con le casse integrazioni. La legge andava fatta perché si tratta di sanare, oltre che una grave ingiustizia sociale, anche qualcosa che la Corte Costituzionale ci avrebbe rimarcato, quindi trovo che sia corretta. Il fatto di rimandarla con degli escamotaggi di emendamenti a settembre ritarda semplicemente l'azione che i comuni possono fare al riguardo. Quindi questo secondo me danneggia semplicemente lo strato più povero e più bisognoso anche della nostra regione, per dei motivi che sono fondamentalmente ideologici e niente più. Toni differenti quelli provenienti dai banchi del centrodestra. Sia Elisa Montemagni della Lega che Marco Stella di Forza Italia hanno evidenziato come la Corte Costituzionale non si sia espressa sulla legge toscana e quindi i bandi possono andare avanti. Entrambi i consiglieri hanno insistito sul fatto che la legge deve premiare anche chi e si è trovato in difficoltà economica a causa del Covid. Diego Petruccio di Fratelli d'Italia si è detto invece soddisfatto del Via Libera all'emendamento che premia chi vive in Toscana da tempo. Noi lo giudichiamo opportuno perché approvare una legge che sarebbe stata un disastro sul territorio per noi era sbagliato. Certo se il PD avesse subito ascoltato quello che noi gli chiedevamo e avesse preso in considerazione i nostri emendamenti che garantivano l'uguaglianza di accesso alle case popolari a tutti i cittadini che ne facevano richiesta, probabilmente si sarebbe potuto votare. E ci tengo a dire che noi eravamo pronti a star lì fino a ferragosto per arrivare a una soluzione. È stata sposta da settembre e io spero che questo tempo sia utile al Partito Democratico e alla maggioranza per valutare l'opportunità che secondo noi diventa indispensabile di inserire criteri che garantiscano le uguali opportunità a tutti i cittadini che fanno richiesta e che hanno bisogno. Però quello che noi abbiamo letto in questi giorni sono anche le accuse da parte del Partito Democratico che ci dice che abbiamo bloccato i bandi. Sono bugie. I bandi si possono fare, la nostra legge è vigente, non è impugnata, non è oggetto di sentenza. Quindi tutti i comuni possono fare i bandi. Dirò di più. Le graduatorie in essere possono scorrere perché ovviamente finché non ci saranno le nuove graduatorie rimangono in essere quelle vigenti. Le case popolari possono essere assegnate e spero che tutti i sindaci lo facciano perché ci sono molte, troppe persone che aspettano da anni se non da decenni. Sono sorpreso della legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica in regione toscana e sono sorpreso da due fattori prevalentemente. Il primo è che la sentenza della Corte Costituzionale non impugna la legge della regione toscana. Impugna un'altra legge. Noi siamo fermamente convinti che occorre dare le case agli italiani, cioè a chi sta in questo Paese da più di dieci anni. Abbiamo sempre fatto questa battaglia. Nei primi 100 in graduatoria dell'edilizia residenziale pubblica, 70 sono extracomunitari. A maggior ragione, in un momento difficile come questo, dove c'è tutta una fascia grigia, che magari prima aveva due stipendi e che oggi se ne ritrova soltanto uno, che magari prima aveva il sostegno dei genitori e che oggi invece quel sostegno non può più esserci, abbiamo bisogno di dare una risposta a chi ha bisogno di case. E poi non c'è un centesimo sulla nuova edilizia residenziale pubblica, che è un altro grandissimo tema che in questo Paese, in regione toscana, non viene affrontato. Non si costruiscono più case e quello che mi meraviglia di più è che all'interno del Piano Nazionale di Resilienza non c'è un euro per la costruzione di nuove case. Noia è fermo. Il Piano Case è l'ultimo Piano Case fatto del 1974. Non sono state più costruite case. Addirittura i dati ci dicono che ci sono centinaia di migliaia di case in Toscana che sono sfitte, che sono vuote o che sono occupate e che i comuni non se ne riappropriano per darlo a chi effettivamente ne ha bisogno. Ci sono tantissimi comuni che vorrebbero uscire con i nuovi bandi per le case popolari. Noi, come Fratelli d'Italia, abbiamo fatto un lavoro importante in commissione, ovvero quello di inserire la storicità della residenza come criterio premiale nell'assegnazione degli alloggi, che secondo noi era la battaglia fondamentale alla luce del fatto che la Corte Costituzionale ha sancito che non può essere un criterio di esclusione. Quindi abbiamo fatto questa battaglia ottenendo in commissione una riforma della legge importante, dove appunto la storicità della residenza è un criterio premiale, così tenendo conto di chi vive, di chi lavora in Toscana, nelle nostre città da anni e non permettendo invece una deriva che vedeva chi arrivava il mese prima avere le stesse opportunità, se non di più, di chi vive qui da anni. Nuove risorse per le rievocazioni storiche Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge che stanze 500 mila euro l'anno fino al 2023. Nel testo si fa riferimento a una governance diffusa del fenomeno delle manifestazioni storiche, con un maggior coinvolgimento delle amministrazioni locali, anche attraverso gli strumenti normativi della coprogettazione tra enti e associazioni. Altri obiettivi sono dal lato quello di proliferare una più spiccata azione di promozione degli eventi, con una valorizzazione e una premialità dell'iniziativa dal basso. Dall'altro quello di sancire il riconoscimento del valore culturale delle manifestazioni, con il coinvolgimento del mondo e della scuola. L'Aula ha approvato anche un ordine del giorno della Lega per dare in concessione ai privati immobili di proprietà dello Stato o di allienti locali per un periodo fino a 50 anni, in modo da ampliare lo spettro dei possibili fruitori ai beni dei piccoli centri e borghi. Abbiamo cercato di andare incontro alle associazioni che promuovono gli eventi, volendo poi mettere anche in evidenza il carattere culturale delle manifestazioni, ha affermato Cristina Giacchi, presidente della Commissione Cultura, organismo al centro della critica di Diego Petrucci. Il consigliere di Fratelli d'Italia, che ha definito buona la legge, ha contestato la delega Danci per scegliere i sei sindaci che faranno parte del Comitato regionale per le rievocazioni storiche. È una legge molto importante che è stata approvata nel Consiglio di mercoledì 28 luglio e che prevede non soltanto, rende operativo lo stanziamento di 500 mila euro all'anno che era stato previsto nel bilancio, ma prevede grandi novità dal punto di vista delle modalità di erogazione. Le associazioni e le istituzioni che realizzano rievocazioni storiche potranno coprogettare con gli enti locali gli eventi, le cerimonie, le iniziative, secondo le modalità previste dalla legge sul terzo settore. È la prima applicazione della riforma del terzo settore che abbiamo visto negli scorsi mesi essere approvata e che adesso davvero trova realizzazione. È una legge la nostra che ha cercato di andare incontro alle esigenze delle associazioni che realizzano queste importanti rievocazioni, così sentite dalla cittadinanza, e che anche ha cercato di sollecitarne e sottolinearne il valore culturale. La novità della collaborazione con le scuole, sia nella fase di progettazione, sia dal punto di vista della fruizione degli eventi, è uno di questi elementi. È l'istituzione di un osservatorio scientifico, diciamo così, che sorvegli sulle iniziative, sul calendario, che dia un contributo di consulenza. È l'altra novità importante. Ecco, una governance che avrà il suo centro nella regione, consiglio e giunta, e nella collaborazione soprattutto con le associazioni presenti in tutto il territorio. Una buona legge sciupata dalla Commissione in Regione, perché anziché mettere come rappresentanti dell'organo di governo della legge, che stanzia circa 500 mila euro l'anno per i prossimi tre anni, i sindaci dei comuni capoluoghi, che era una cosa, diciamo, oggettiva e neutra, invece si demanda all'Anci di scegliere quali saranno i sindaci e quali saranno i comuni che governeranno questo processo e questo procedimento. È un modo arbitrario di intendere la politica e soprattutto speriamo che Anci sia in questo caso imparziale e non voglia invece fare una congrega di partito, come molto spesso abbiamo visto fare ad Anci. Grazie a tutti